abbiamo la prova che ci sono gli alieni nel buco della strega è un qualche marchigegno che useranno da mandare anche marcato anche qua quindi manderanno le onde dove hanno l'astronave in orbita e dicono due pirla sono giù nel torrente a rompere i coglioni gli buttiamo due laser oppure cosa facciamo lo metto qua insieme al pezzo del fanti vediamo dove lo troviamo giù la sotto poi vedrai c'è anche il suo coso vedi ma che roba il suo pezzo per attaccarlo il suo braccino a posto anche per oggi la raccolta è fatta e lì è dove è entrato le gomme sopra lì